Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e come vi avevo promesso la live è finita Il risultato del vincitore l'abbiamo dato E a questo punto vi comunico la mia decisione Allora in primis ragazzi come state vedendo state sporrendo tutti quanti i commenti Di tutte le persone che mi sono state vicino nel mio ultimo video Io apprezzo apprezzo moltissimo i commenti di tutti Mi ha fatto veramente molto piacere ricevere tutti questi commenti Questo interessamento da parte di anche di nuovi iscritti ragazzi Anche di nuovi iscritti E la cosa mi ha lasciato bocca aperta Perché non pensavo che comunque ci fossero queste persone che mi seguissero E che comunque mi apprezzassero veramente per lo youtuber che sono Non per il bimbo minchia che gli altri vorrebbero che io fossi insomma Il bimbo minchia cazzone che sta lì a fare cazzate E compagnia bella Io ragazzi sono questo Maxi Milk è questo Maxi Milk è quello che è Io non riesco a vendermi A vendermi intendo A seguire la corrente Come sapete tutti nella mia pagina su facebook Il mio profilo facebook c'è scritto Maxi Milk YouTube È l'unico youtuber controcorrente Perché questo sono io ragazzi Io sono controcorrente Io non seguo le correnti E non vorrò mai seguirle queste correnti Quindi magari per questo non faccio iscritti Per questo Diciamo il canale non cresce mai E magari questa è una serie di motivi Però ragazzi Voi mi avete dato un motivo Un motivo solo Per andare avanti ragazzi Oggi ho ricevuto un bigliettino Che è questo qui che state vedendo Con una dedica particolare Come state vedendo E questa dedica Ragazzi mi ha Mi ha lasciato senza parole Accompagnato da questo bigliettino C'erano Due regali ragazzi Tra cui questa targa Che state vedendo Che Questa targa c'è scritto Maxi Milk E c'è scritto Ermeio Youtuber Italiano Ragazzi Come l'avete vista Questa targa Me l'hanno fatta Quel gruppetto di amici Che avete letto Nel Nel bigliettino Devo dire che Mi Mi lascia Mi ha lasciato veramente Senza parole Perché è meglio Di una targa Di platino Di Youtube Secondo me O di altre cazzate E questo è il secondo Presentino Che mi hanno fatto sempre Diciamo Questi amici Questi fans Che loro si ritengono fans Ma io magari adesso Non so neanche come definirli Perché sono stati veramente carini E apprezzo veramente Molto il gesto Che hanno fatto Quindi per cui ragazzi Maxi Milk C'è Continuerà A rimanere Su Youtube E Me dovete sorbire Ancora per un bel po' Di tempo Io Ringrazio tutte queste persone Che mi hanno dato la spinta E Detto questo Ragazzi Non so che altro dirvi Spero di Accontentarvi Ancora per molto tempo Continuate a seguirmi E Detto questo Ciao a tutti E al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti